E' tutto pronto, si attende solo l'apertura delle gabbie che avviene in questo momento partiti, cavalli della seconda corsa del pomeriggio, parte bene Prince Red che all'apertura delle gabbie prende subito una cosa come tre lunghezze e poi ripiega tenendo in mano anche agevolato dall'incedere degli altri che non è decisissimo in questa fase. In seconda posizione si assesta atto finale a precedere Canguro Basque che ha al suo interno anche Birindelli, dietro a questi troviamo Fiore del Drago, ancora all'interno la figura di Zuor che ha chiuso la favorita, poi Amabel a chiudere il quadro, Tulemem. Si procede così con i cavalli che hanno percorso la prima parte della curva, sempre in vantaggio troviamo Prince Red nei confronti di atto finale, in terza posizione troviamo Canguro Basque, a precedere in quarta posizione Birindelli, poi Fiore del Drago, ancora Zuor, Amabel e Tulemem. Siamo sulla retta opposta, quando Prince Red ha impresso già una brusca accelerazione, tanto che il gruppo si è ulteriormente sfilacciato, il primo degli inseguitori deputato a fare da elastico e atto finale, che precede Canguro Basque, poi Birindelli che va per corsie interne, ancora alle loro spalle troviamo Fiore del Drago, Zuor che è andata di dentro, poi Amabel accompagnata insieme a Tulemem che ha recuperato qualcosina per portarsi a contatto con i primi. Con Prince Red che ha preso una cosa come 5 lunghezze all'imbocco dell'ultima curva, atto finale, il primo degli inseguitori come già detto in precedenza, in terza si avvicinano tanto Birindelli all'interno di Canguro Basque, poi ancora troviamo Zuor, Fiore del Drago, Amabel ed ancora Tulemem in coda a tutti. Siamo addirittura ad arrivo con in vantaggio Prince Red che ha visto ridurre il suo gap, il primo degli inseguitori è Birindelli che si trascina al suo esterno atto finale, poi ancora Canguro Basque, dalle retrovie tentano di venire avanti, Zuor che ha trovato un buon barco e anche la stessa Amabel, è rimasto un pochino sul passo Fiore del Drago, con all'interno Tulemem, con cavalli che sono a 300 al traguardo, almeno 5 in lotta. Con in vantaggio Birindelli nei confronti di Canguro Basque, deve trovare lo spazio Amabel, di dentro si è ripreso anche Prince Red, ci prova Zuor con 4 cavalli a lottare, Prince Red ha ripreso la leadership della competizione, prova Zuor al suo interno, Prince Red contro Zuor, si è messa sulle gambe anche Amabel nel tratto conclusivo. Prince Red, concretizza il costo cost, se li ha fatti avvicinare ma poi è ripartito di slancio, Prince Red che ha 8 anni non smette di stupire, 17esima affermazione in carriera per il bottom weight della competizione, Manuel Porco in sella, il training è quello di Luigi Di Dio, i colori di Tiziana Di Dio, 8 al primo posto, dobbiamo rivedere lo stretto per capire esattamente il secondo e il terzo posto, credo ancora Zuor su Amabel ma chiaramente servirà lo slomo per certificare questa impressione che viene dunque confermata, 8 al primo, 6 al secondo, 1 al terzo, l'ordine d'arrivo ufficioso, numerico e probabile della seconda da capanelle. Grazie 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 Grazie